Attiva le difese naturali del tuo corpo contro il dolore. Azionala con il tasto e appoggiala semplicemente dove ti fa male. Il segreto è la elettroanalgesia, la tecnologia che permette a PENXIT di amettere gli impulsi elettrici a bassa frequenza nella parte dolorante che segnalano al tuo cervello di attivare le endorfine, che sono come le difese naturali del tuo corpo. Le endorfine sono gli antidolorifici naturali del nostro corpo, bloccano il segnale di dolore al cervello. Il risultato è una rapida riduzione del dolore senza utilizzo di medicine. È stata inventata in Danimarca da un esperto di dispositivi medici, clinicamente testato e, soprattutto, a differenza dei farmaci e delle prescrizioni mediche che puoi assumere solo dopo un certo numero di ore, puoi usare PENXIT ogni volta che vuoi, ovunque vuoi, ogni volta che ne hai bisogno. Puoi usarlo da solo o insieme ad altre terapie antidolorifiche che stai seguendo. PENXIT è la penna energetica alimentata a batterie che lavora per te. Sta in tasca o in borsa e la puoi portare sempre con te. E ora, ogni volta che il dolore ti colpisce, puoi combatterlo con PENXIT.